di quelle volte che sei alla scrivania e ti sdoppi in continuazione a fare altre cose a pensare ad altro preso dalla confusione che ha intorno e oggi ce n'era tanta anche se piena di energia ma era tanta allora cominciano a passare delle immagini in testa immagini che trasmettono anche se in modo diverso quella stessa energia immagini che sembrano ricordi e invece no sono solo dettagli di passaggio che probabilmente non torneranno mai più prendo il volo con la mente comincio ad alzarmi e allontanarmi dalla confusione dai rumori attraverso le prime nuvole sbiadite e la mia mente comincia a non sentire più nulla comincio a non distinguere più bene ogni cosa e ogni cosa da laggiù non si accorge più di me tutto diventa una geometria da esplorare da quassù una serie di pezzi messi insieme con ordine e pazienza io mi dimentico di quello che sentivo un minuto fa ci salutiamo io e la terra non serve alcun gesto basta uno sguardo gli occhi che si chiudono il corpo che si lascia andare pezzo dopo pezzo un volo che forse è un sogno forse è solo immaginario ma dura abbastanza per portarmi dove voglio essere